Esattamente un anno ieri, all'età di 84 anni, moriva nella sua casa di Cannatello l'onorevole Filippo Lentini. In città il ricordo di colui che per oltre mezzo secolo ha legato la sua esperienza politica al servizio del suo paese natale non è mai scomparso. Filippo Lentini è stato il sindaco di Favara in diversi periodi per circa 18 anni, erede politico del sindaco assassinato dalla mafia a Guarino. Le sue esperienze amministrative hanno portato ad un effettivo cambiamento delle condizioni di vita a Favara. È stato anche vice presidente dell'assemblea regionale siciliana ed assessore regionale. Un uomo di grande spessore politico e culturale, uomo sportivo e legato alla sua città d'origine. Quando in città si parla di buona politica nella memoria dei favaresi è sempre vivo il ricordo di Filippo Lentini. E proprio per ricordare il primo anniversario della sua scomparsa è stato organizzato per sabato prossimo 6 novembre alle ore 16.30 un incontro al Castello Chiaramontano a promuovere l'iniziativa il comune di Favara, la provincia regionale di Egregento e l'associazione Atena. Nel corso della serata in sala verranno anche proiettati dei video tributo al compianto onorevole.